Meglio di Juan sul primo, pallone interessante, gol! Mirko! Vucinic, ormai è sempre lui, si è preso gusto. Che gol ha fatto, che reattività Alessandra, ha visto sbucare questo pallone, era stato lasciato solo dal proprio marcatore, si è coordinato benissimo con l'impiatto destro, ha messo in porta, un gran gol di grande reattività. E dai Mirko, 1-0 per noi, il gol che arriva al diciottesimo minuto, Totti forse neanche si è accorto del marcatore, vi vediamo ancora, e qui, bel gol di Mirko Vucinic, con il piatto forse destro la mette dentro, vediamo un po', eccolo qui, piatto destro, 1-0 per noi, ancora Mirko, che segna un altro gol nel giro di quattro giorni, dopo quello realizzato bellissimo ad Atene, 1-0 per la Roma. Bravissimo a liberarsi di Camuano, che non so cosa stessi guardando, era girato...